Ciao ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Finalmente, dico finalmente, perché è una vita che voglio farvi questo video perché me ne sto parlando da un sacco, un sacco di tempo di questi prodotti che mi hanno letteralmente cambiato la vita li amo tantissimo per la cura dei capelli sono veramente la svolta nel campo del bio, dei prodotti naturali sono veramente i prodotti migliori che io abbia mai provato, vi giuro ovviamente li trovate su carlitashop.com che è il mio shop online dove trovate solo i miei prodotti preferiti quindi ovviamente questi qua non potevano assolutamente mancare perché sono veramente eccellenti e in tante tante vi state amando in realtà siete voi ad avermi rifatti scoprire perché praticamente mi avete segnalato in tantissimi questi prodotti dicendomi Carlita inserisceli sul tuo shop perché sono veramente favolosi e molto spesso mi date voi delle idee ovviamente io l'ho prima provato, questo tipo un anno fa li ho provati per mesi e veramente già dalla prima volta che li provi già capisci la differenza e poi dopo ho deciso di inserirli nel mio shop online e infatti in tante li avete acquistati e vi dite che vi trovate bene mi dite che veramente sono diversi dai tutti i prodotti bio a cui noi siamo stati abituati perché i prodotti in questione sono i prodotti maternatura che sono davvero davvero favolosi hanno tutti questo pack molto molto fine ed elegante vi metterò qualche foto la cosa essenziale che ci tengo a sottolineare di questi prodotti è che ovviamente non hanno silicone, non hanno paraffina sono completamente naturali, ecologici e biologici ma io stimo tantissimo anche l'azienda maternatura perché è una delle aziende leader nel campo del bio ed è la prima azienda in assoluto che ha fatto questi prodotti che simulano i prodotti normali, quelli con silicone però non hanno silicone cioè ha lo stesso effetto del capello lucido è disciplinato, districato lo shampoo ti fa una bella schiuma il balsamo ti districa adesso ve li faccio vedere la maschera ti nutre il capello quasi come se tu usassi i silicone però in realtà no sono completamente ecologici e naturali anche proprio l'azienda nella sua filosofia è molto naturale e biologica hanno iniziato tipo 30 anni fa loro a fare questi prodotti bio e naturali e producono anche prodotti per conto terzi quindi molte aziende famose bio sono fatte da loro, da maternatura e poi hanno deciso di fare una loro linea bio denominata maternatura quindi capite che sono leader erano 3000 certificazioni sono veramente veramente buonissimi io li amo la prima volta che ho usato questo shampoo ragazze questo è uno dei miei prodotti preferiti ed è lo shampoo volumizzante capelli fini alla magnolia ragazzi la prima volta che ho usato questo shampoo ho detto oh mio dio che shampoo ho usato finora io perché vi giuro vi fa una schiuma che sembra di usare non lo so un garnier sembra di usare un panten ti fa una schiuma pazzesca ti lava ti districa non ti selca il capello te lo lascia morbido sono delle profumazioni veramente veramente buone io comunque vi metto il link a tutti i prodotti maternatura su carita shop così li potete acquistare direttamente ve li metto già linkati nel box info così è più facile per voi acquistarli e vi dirò in questo video le mie impressioni sui prodotti e anche quali sono secondo me i must have assoluti di questa linea maternatura perché li ho provati tutti ovviamente li ho provati tutti tutti e sul mio shop trovate di questa linea solo i prodotti che secondo me funzionano e i miei preferiti quindi vi metto il link nel box info così li potete acquistare un shampoo volumizzante è molto buono perché fa una bella schiuma e li districa bene e li lascia molto voluminosi quindi praticamente fa durare anche di più la piega va bene anche per chi ha i capelli che magari subito si devono rilavare o che come me magari va in palestra o mi si sporcano subito comunque va molto bene va bene sia per capelli secchi che grassi è un shampoo che va bene per tutti e li lascia molto puliti questa è la cosa bella li lava bene li lascia puliti e brillanti morbidi mi piace tantissimo questo shampoo ve lo straconsiglio ah ovviamente prima di continuare ragazze ci vengo a specificare che il titolo ovviamente è ironico perché il titolo del video perché ovviamente è in risposta dato che questo video lo caricò dopo il mio ultimo video dove vi avevo raccontato di aver messo l'extension nei capelli eccetera e tante persone insomma mi hanno detto questa cosa che non è una cosa naturale in effetti è vero non è una cosa naturale però il fatto è che io comunque ho sempre avuto capelli sani capelli belli da quando sono passata al bio ho avuto sempre capelli bellissimi ho notato la differenza come tutte voi l'unica cosa è che semplicemente le avevo tagliati perché mi era venuto sto colpo di testa perché sto so pazza sto fuori e quindi poi mi sono pentita quindi semplicemente l'extension è un modo per vedersi con capelli più lunghi ma non perché i miei capelli fossero rovinati questo ci tengo a spiegare i miei capelli stavano veramente benissimo Maternatura inoltre ha fatto anche uno shampoo per capelli trattati che anche è molto buono poi ha fatto lo shampoo per capelli grassi che vi straconsiglio arcisto che è ottimo ed è uno dei migliori quando vuoi mi fare shampoo per capelli grassi su Caritashop io vi consiglio questo di Maternatura o quello al T3 di Dottor Organic o quello alla lavanda di Alchemilla comunque c'è tutta la categoria capelli grassi questo devo dire che è uno di quelli che ha recensioni più positive in assoluto è molto buono per capelli grassi provatelo e un altro che io amo è questo qua io uso sempre questi due o quello volumizzante o quello per capelli secchi lo shampoo per capelli secchi è molto molto buono e appunto li nutre quindi vengono comunque benissimo i capelli man mano andiamo verso la parte più calda perché man mano adesso le balbassano le maschere gli impacchi poi i trattamenti di styling vabbè tanti chicchi sono tanti prodottini molto molto carini questo è bassamo vi giuro è troppo buono questo bassamo è bassamo per capelli al meliloto districante questo è un bassamo veramente super districante mi piace tantissimo quando lo uso i capelli comunque si sciolgono tutti i nodi già mentre li lavo non c'è quasi bisogno di pettinarli e anche questo ha un'ottima profumazione io uso il bassamo sempre quando faccio lo shampoo e poi una volta a settimana uso la maschera che adesso vi faccio vedere questa maschera è davvero miracolosa ragazzi provatela la maschera ristrutturante a semi di girasole vi giuro è qualcosa di miracoloso tutto è un barattolo che è una super densa quindi ne basta una piccola quantità la lascia in posa dieci minuti massimo un quarto d'ora ma anche di meno e i capelli si chiudono tutte le squame dei capelli quindi vi vengono lucidi per capelli secchi sfibrati opachi spezzati per le doppie punte è veramente veramente top ragazzi e provatela quindi per non appesantirli cerco di alternare il balsamo alla maschera e poi c'è anche l'impacco questo ragazzi l'impacco capelli rivitalizzante alla passiflora è veramente la svolta perché praticamente è un impacco che puoi mettere sui capelli sia prima di lavarli e magari lo lasci in posa una mezz'oretta quindi ti fai proprio un impacco super nutriente sia si può usare anche dopo quindi sui capelli bagnati come se fosse una maschera e ha un effetto super nutriente veramente lucidante veramente se avete le punte spezzate se avete capelli danneggiati o comunque volete dare una botta di vita provatelo questi prodotti hanno la caratteristica di essere anche prodotti che già dalla prima applicazione noti la differenza ma poi se li usi sempre man mano vedi benefici sui capelli e infatti in tante mi dite anche se magari alcune hanno i capelli magari tinti o comunque magari usano la piastra anche se si cerca di non usarla sempre si cerca di fare non tante tinti o quantomeno naturali però comunque con questi prodotti riuscite ad avere dei capelli belli e sani che molto spesso il parrucchiere stesso da qui noi andiamo dal parrucchiere con i nostri prodotti io porto sempre i miei prodotti dal parrucchiere vi dice ah ma che bei capelli hai come sono sani come sono lucidanti come sono corposi perché questi prodotti li nutrono il bello di questi prodotti bio e naturali e questa è la caratteristica dei prodotti bio per capelli e che contengono tanti principi attivi ingredienti funzionali quello pagate non pagate il silicone la paraffina e gli ingredienti chimici pagate gli ingredienti naturali che nutrono e fanno bene al capello e quindi nel corso del tempo vedete il miglioramento se lo utilizzate con costanza vedete proprio anche ne perdete di meno vi crescono più belli vi crescono più in fretta quindi veramente ve li straconsiglio veramente top poi vediamo veniamo al prodotto che io amo di più in assoluto ed è il prodotto che io veramente non posso non utilizzare il mio massevo assoluto è questo qua il fluido nutriente per capelli mossi è veramente fenomenale è un fluido molto molto asciutto non unge i capelli è una cremina vi faccio vedere è una cremina veramente è proprio un fluido cioè è una crema che potete utilizzare è per capelli mossi ma in effetti è una crema nutriente quindi la potete mettere comunque sempre sui capelli anche sui capelli lisci ed è un fluido che serve per illuminare i capelli li rende molto lucenti toglie l'effetto crespo e appunto nel caso in cui voi li facciate mossi o ricci li modella senza incollarli senza seccarli li nutre e li rende veramente veramente belli questo è un prodotto di styling che io amo 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 e lo uso appunto quando mi faccio i capelli e mi li sto asciugando ne metto un po' prima di asciugarli e un po' dopo sui capelli asciutti a mo' di crema idratante per capelli è veramente fenomenale poi ha un profumo che io adoro quindi mi piace sentire poi questa profumazione che rimane sui capelli ed è un fluido per me questo è un fluido nutriente idratante lucidante per capelli per capelli mossi ci dice ma io vi dico che va bene anche per capelli ricci anche per capelli lisci va bene un po' per tutti è semplicemente un prodotto nutriente per capelli che nutre le punte spezzate le punte sfibrate toglie l'effetto crespo e comunque fa bene al capello è molto disciplinante è un prodotto di styling veramente multifunzionale quindi questo qua per me è il top poi un altro top è questo qua il fluido modellante per capelli ricci questo qua è specificato per capelli ricci perché questo qua è molto più fissante quindi è molto più va bene proprio questo qua è specifico per capelli ricci è anche mossi insomma perché è un fluido che faccio vedere la differenza da quello invece di quello vedete come questo è tipo sembra tipo miele però non è appiccicoso come il miele però ha la consistenza è troppo troppo bello ha un profumo buonissimo ed è trasparente tipo un gel trasparente quindi capite che già la consistenza gel ci fa orientare verso il capello riccio mosso e questo qua se avete capelli ricci ragazze provatelo so che in tante già lo amate perché questo qua ogni volta che lo mettiamo su Caritas Shop finisce perché veramente va a ruba è fenomenale proprio serve per modellare i ricci li nutre evita che si secchino e può essere usato sia appunto quando fate i capelli sia anche nei giorni successivi magari per ravvivare quel riccio che sta un po' morendo e così anche il fluido quello là anche questo per capelli mossi al crocus anche questo qua nutriente io lo uso anche questo così cioè se durante i giorni vedo che magari le punte un po' con l'umidità si sconvolgono o comunque magari il capello si secca o comunque gli voglio dare un po' di luminosità lo metto anche come live-in nei giorni successivi allo shampoo ragazze veramente veramente funzionali cioè non hanno difetti non hanno sono veramente si vede studiati per essere funzionali per apportare quel risultato ed essere veramente a pari dei prodotti da parrucchiero dei prodotti che magari per ottenere dei risultati hanno bisogno dei silicone questi sono naturali e ottengono determinati risultati quindi questa è la cosa a volte dei prodotti bio io ad esempio mi ricordo tipo 7-8-9 anni fa dei prodotti bio all'inizio che c'erano questi prodotti si vedeva che erano un po' scrausi alcuni magari lo shampoo non ti faceva la schiuma il gel oppure il fluido che mettevi per lo styling praticamente ti sporcavi i capelli era munto tutte ste robe che noi sappiamo che chi ha iniziato come me tanti anni fa lo sa e invece questi qua loro sono proprio bravi a formularli quindi sono proprio prodotti fatti bene molto molto efficaci quindi molto funzionali e a me piace questa cosa della cosmetica naturale che funziona perché voi sapete che io sono sempre stata a favore della cosmetica naturale che funziona cioè per me i prodotti bio sono migliori se funzionano cioè quella è la cosa fondamentale e se formulati da persone competenti funziona benissimo perché alla base ci sono ingredienti naturali quindi che vanno a ristrutturare i capelli la pelle eccetera c'è anche il balsamo volumizzante per capelli fini che è anche molto molto buono e poi ci sono questi due prodotti questo è uno dell'altro mio Mastèbe ed è lo spray fessativo per capelli alla rosa anche qua uno spray fessativo che però non azzecca non incolla i capelli perché io odio quando i capelli si induriscono o si sporcano questo è uno spray molto leggero che potete usare anche tutti i giorni per dare quell'attimo quando ti sei sistemato i capelli lo spruzzi e dai quell'attimo di 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 tregua di dire ok restate così i capelli però è molto leggero vedete poi è un profumo di rosa io adoro il fatto che sia profumato alla rosa per me gli dà già 10 punti perché adoro avere questa profumazione quindi anche tutti i giorni io lo spruzzo sui capelli potete farlo per mantenere i capelli profumati perché a me piace comunque avere un buon profumo nei capelli dei migliori perché sono tipo un po' sporchi magari mi devo fare lo shampoo con ora il tempo metto questo qua e vi giuro si toglie la puzza e sono belli sembrano puliti e profumati ed è molto bello questo qua ha vari ingredienti che comunque entrano anche un po' il capello e lo fissano senza incollarlo anche ad esempio se fate una coda oppure magari fate i licci o le fai o le piastrate le fate lisci alla fine ci mettete un tocco di questo così si fissano e restano profumati poi ragazze c'è il fluido lucidante anche questo è molto molto carino questo è un fluido lucidante anticrispo e praticamente ha tipo un po' l'aspetto dalla consistenza di tipo di cristalli liquidi quindi tipo semi di lino però ovviamente non ha silicone quindi ha la funzione sia di chiudere le squame dei capelli sulle punte questo cosa so sulle punte e sulle lunghezze quindi se avete le punte secche le punte le punte spezzate le punte sfibrate e toglie tantissimo l'effetto crispo vi consiglio di usarlo qualche goccia sui capelli bagnati prima di asciugarli è molto molto buono e se volete fate in questo modo io lo uso un combo con lo spray cioè metto lo spray e metto qualche goccina proprio due gocce solo sulle punte così mi fisso le punte mi tolgo l'effetto crispo e lo vado a nutrire anche questo qua se usato con costanza ti nutre le punte secche quindi le punte sfibrate c'è sempre le punte belle perché è brutto avere le punte tutte spezzate è un prodotto molto molto buono e anche se avete capelli crispi ve lo straconsiglio vabbè ragazzi di maternatura io ho inserito anche cose per il viso su Caritas Shop anche le creme viso tante cose ad esempio come il gel questo qua è il gel detergente viso purificante ed è un prodotto che va a ruba su Caritas Shop quindi ve lo straconsiglio un gel molto fresco per lavarsi il viso se avete la pelle impura è buono perché combatte le imperfezioni vabbè tante cose ci faccio soltanto un piccolo accenno a questi qua che ho inserito di recente su Caritas Shop sempre di maternatura e sto tipo impazzita quando le ho visti perché sono io le cercavo tantissimo sono tipo delle acque termali spray che quindi vengono vaporizzate le puoi vaporizzare o sul viso o anche sui capelli e sono completamente naturali acque floreali quindi non hanno aggiunta di ingredienti chimici sintetici nulla ed è cioè perché soltanto l'estratto e l'acqua floreale quindi cosa top e sono in questi contenuterini scuri che quindi fa durare il prodotto perché non fa passare la luce sono spray quindi sono molto molto fighi e comodi te li puoi portare anche dietro io ho preso lavanda rosmarino rosa e camomilla comunque andate a vedere su Caritas Shop mi pare che siano i non peggio che comunque un prodotto nuovo lo mettiamo sempre in ultimissime novità se non lo trovate anche nella sezione tonici perché questi qua si possono usare anche come tonici sul viso oppure spruzzarli magari per fissare il trucco dopo che ti sei truccato oppure te li porti dietro durante la giornata ti vuoi dare una rinfrescata te li spruzzi comunque ha un effetto tonificante e idratante e perché ve lo sto facendo dire anche sui capelli tipo come spray per profumare i capelli per nutrirli perché comunque hanno estratti floreali che nutrono il capello e per profumarli tantissimo e anche per fare ad esempio dei risciacqui può essere utilizzato anche per fare dei risciacqui ad esempio quello alla lavanda questa è l'acqua alla lavanda può essere utilizzata per fare l'ultimo risciacquo dei capelli per renderli più luminosi oppure magari lo potete mettere nel vostro impatto se fate una maschera magari ci mettete non so il miele quello che volete ci mettete un po' di questo invece dell'acqua e anche nell'impacco quello che vi ho fatto vedere per renderlo un po' più fluido mettete un po' dell'impacco questo qua un po' dell'impacco in una ciotolina per renderlo un po' più cremoso arricchirlo potete mettere un po' di questo e poi lo applicate sui capelli comunque sono tantissime le cose che potete fare con questi io ce le ho sempre le adoro me le porto anche in viaggio perché mi rinfrescano le sfrutto su pelle e capelli e mi rivitalizzano un sacco tipo l'acqua termale quella spray e quello rosmarino è anche molto purificante quindi se avete pelle o capelli grassi va bene quello alla rosa va bene buonissimo va bene per tutti ha un ottimo profumo di rosa anche veramente va bene per tutti e poi quello alla lavanda anche per pelle sensibile per pelle grassa e quello alla camomilla lo potete usare se volete schiarire i capelli quindi lo mettete ad esempio un po' nel vostro impacco lo usate come quotidianamente sui capelli e avete questo effetto alla lunga idratante e schiarente quindi anche una figata quindi ragazzi questo è tutto io spero che i vostri capelli ricrescano lunghissimi e anche i miei lunghissimi lunghissimi fino ai piedi perché o hanno capelli lunghi e vi consiglio di provare questi prodotti vi lascio il link nei box informazione comunque li trovate su caritashop.com e se avete domande lasciatele nei commenti così magari vi rispondo subito perché appena pubblico il video sto là a rispondere ma anche nei giorni successivi vi rispondo sempre quindi se avete domande sui prodotti volete sapere qualcosa in più lasciate nei commenti sono a vostra disposizione cos'altro dirvi rimando un bacio grande vi amo tantissimo e ci vediamo al prossimo video ah fatemi sapere voi se avete provato questi prodotti come vi siete trovate ciao 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 Who's gonna walk you through the dark side of the morning? It ain't me It ain't me